Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Insomma, volevo farvi il figo. Ogni tanto facevo anche dei video. Così compresi che il cinema può mettere insieme tutte le arti e le scienze che mi piacciono. Fare video mi ha portato anche a conoscere tante bellissime persone e grandi artisti. Alcuni di loro, i più imbecilli, sono ora i miei più stretti collaboratori. Ciao, sono Giuseppan! Vinceri il top next up in una conquista. Giù! Buona fortuna! Buona fortuna! Ok, chi era quella? Vabbè. Sei pronto? Vai! Junius, Junius! Come ci si sente ad essere una web slam? Non lo so, non penso di essere un buon silenzio. Vincere YouTube next up è una conquista. Non per la fama, ma per la consapevolezza. Se armonizzi la frequenza del tuo essere, puoi davvero tutto. E ora, mentre vado a Londra, ho un nuovo mantra. Grazie, 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 grazie. Grazie a tutti.